In Abruzzo, rispetto a ieri, si registrano 310 nuovi casi di coronavirus, 15 morti e quasi 500 guariti. Sarà online a partire da domani mattina la piattaforma telematica regionale per la vaccinazione degli over 70. Arrivano i vaccini a domicilio invece per le categorie over 80 e persone fragili che non possono spostarsi o non possono essere trasportati. L'iniziativa comprende ben 15 comuni. È morto il sindaco di Amatrice, Antonio Fontanella, lo ha comunicato l'amministrazione comunale precisando che il decesso è avvenuto in seguito a complicanze dovute a un malore. Ci ha lasciato Francesco Laurenzi, conosciuto da tutti come Lillino, un volto storico del centrodestra marzicano. Le sue battaglie per le periferie e per gli ultimi rimarranno sempre nella storia del Consiglio Comunale di Avezzano. Si è ammalato improvvisamente contraendo il Covid, poi il susseguirsi di problemi che hanno infine spento la sua grande forza. Parliamo del quarantenne Pietro di Berardino, la cui morte ha lasciato sgomento e tristezza in tutta quanta la comunità di Carzoli. Tutti gli approfondimenti sui nostri giornali, Abruzzo Live e Marsica Live.